Bravo sei, in silenzio radio. Per fare qualche altra bella mimetica su Shipment e poi passate ad iscrivervi sul canale di Telegram DNews per non perdere nessuna notizia sul mondo di Call of Duty 24 ore su 24, tutti i link in descrizione. Partiamo come sempre su Code Mobile perché si sono attivate all'interno del titolo nuove sfide, prendono il nome di nuovo evento, nuovo aggiornamento, si sono attivate proprio ieri e termineranno il 19 di gennaio. Basterà loggarsi ogni giorno per ogni giorno appunto dal 12 al 19 per ottenere delle ricompense in game. Questo viene fatto perché come sapete il 17 arriverà il grosso aggiornamento che andrà ad introdurre la Season 3 nuove mappe, tutto il nuovo Battle Pass e via dicendo, però un aggiornamento che poi si attiverà esattamente il 20. Infatti ci daranno la possibilità di scaricarlo prima per avere tutto pronto a partire dal 20 di gennaio. Infatti l'evento su Code Mobile che vi stavo dicendo un nuovo anno, un nuovo aggiornamento, terminerà il 19 per dare spazio poi a tutti i contenuti a partire dal 20 di gennaio. È stato un meglio ed è apparsa anche all'interno del gioco lo screen della nuova mappa Multiplay che vi ho fatto vedere anche in anteprima, anche in game, di Scraparde che troveremo sempre con la Season 3 del gioco. Ma ieri è apparsa una bomba, questa immagine bellissima. In arrivo una nuova zona all'interno della Bat Royale del gioco e dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che sia una piattaforma aerea che appare in posizioni casuali della mappa. Galeggiando in aria, l'aria può essere raggiunta con il pare cadute, elicotteri o aeromobili. Vi ricordo un po' ragazzi una zona di Blackout, quella sempre con però piedi a terra e una mappa di Black Ops 3, veramente molto molto bella. Preparatevi ragazzi perché la Season 3, come vi dicevo, sarà bellissima e provate Code Mobile che cercherò di portarvi con molta più costanza a partire da questa settimana per mostrarvi tutto quanto in anteprima in merito alla Season 3. Ma buttiamoci a capo fitta all'interno di Modern Warfare perché ho alcune notizie interessanti per voi. Al momento il titolo è al primo posto dei giochi più scaricati di gennaio 2020 su PS4. La top 3 è Call of Duty Modern Warfare, Minecraft PlayStation 4 Edition e NBA 2K19 al terzo posto. Il titolo ha ricevuto inoltre ben 6 nomination al 23esimo Dice AdWords. è stata nominata nelle seguenti categorie risultati eccezionali in art director, risultati eccezionali nell'animazione, risultati eccezionali nella progettazione audio, risultati tecnici eccezionali, gioco d'azione dell'anno e gioco online dell'anno. Quindi continua a macinare ottimi risultati. L'Infidi World ed Activision inoltre ha annunciato che dovranno il 100% degli utili del bundle Outback Refill Pack che si trova nello shop e nel gioco per aiutare l'Australia che in questo periodo sta affrontando un grandissimo problema a livello ambientale. Infatti le foreste costantemente in fiamme stanno uccidendo migliaia di animali e costringono l'evacuazione di zone abitate. Anche avendo già acquistato precedentemente il bundle contribuirete ragazzi alle donazioni verso l'Australia. Bellissima iniziativa da parte dell'Infidi World. Ieri due notizie sempre in merito al gioco. L'Infidi World ha confermato che prossimamente aggiungerà una riga al sistema delle kill feed. Con questa aggiunta sarà molto più semplice completare alcune sfide che richiedono kill di fila. I giocatori possono trasportare al momento fino a tre armi in una partita. Nuovo bug trovato all'interno del gioco. Tutto ciò è dovuto ad un problema tecnico legato al potenziamento da campo weapon drop. Il bug è causato dalla mancanza di un'animazione che dovrebbe consentire la caduta dell'arma presa dalla weapon drop. Che invece rimane al giocatore come una sorta di arma terziaria fino alla sua morte. L'Infidi World sta già lavorando a questo problema che verrà probabilmente risolto con il prossimo update. Vi ricordo domani sera ci sarà un nuovo aggiornamento delle playlist come annunciato da Josh Ecott. Mentre il big update ancora non ha una data perché è stato confermato nuovamente anche ieri che è in fase di test e in fase di ultimazione. Quindi preparate e continuate a tenere libera la vostra console e il vostro pc perché arriveranno almeno altri bei 10 gigabyte di aggiornamento. Qui sotto nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate. Ci vediamo alle 13.30 live su Twitch per continuare a nerdare le mimetiche su Shipment. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Grazie.